salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono Raffaele e sono Giardo e sono Giuseppe e saremo sempre su FIFA 14 a fare una sfida a tre allora saranno loro due contro di me e cercherò di sfatare la mia purtroppo maledizione non ho mai vinto la partire sicuro la cercherò di vincere adesso lo faremo sempre una sfida casuale quindi con squadre casuali in azioni casuali inizio prima io che sto da solo vediamo un po allora Italia è uscita la Spagna buona probabilità che io vinca eh aspetta dici guarda vediamo cosa esce a noi a Spagna però Liga delante no Liga pure a noi Liga delante quindi cosa facciamo cosa fa anche la Liga Liga BBVA Granade Levante ah il meglio dai ci può stare ragazzi ci può stare dai la camiseta negra allora in posizione di gioco cinque minuti come sempre campione ok estate va bene così dai sereno perfetto ok la formazione non la conosco dobbiamo dobbiamo solo togliere la neve eh andiamo un po così Zongo Suso Dezza Alexi Vidal Ronnecola della Juve Tebar Superbic che cosa Zongo Guccia oh però vuoi signorio Sforiano Sforiano Rondrin drei mani ok se pure chiù 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 vai andiamo togliamo la neve che cazzo fa togliamo la neve la neve la neve la neve ok giochiamo questa fantastica partita come si tira? sono io zungo ed ecco che incominciate ragazzi incredibile allora ragazzi io non allora primo tiro incrocio dei pali incrocio dei pali con david barallo incrocio un secondo qui lagga un po' ho fanculo ho casato per aver preso l'introcio dei pali ma siamo qua no 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 ok meno male che tira meno sotto non c'è ma suso dall'angolo mette un croce in mezzo wow con la mano grandissimo con la mano addirittura ragazzi ci siamo ci siamo ci siamo no la sberza la sberza scusa ma allora dopo 40 secondi un super incrocio dei pali che se facevo quel gol è venuto tutta la partita già a priori ce ne da ragazzi come sempre eh levante di merda ma levate levate wow dove vai qui c'è c'è victor ti barbo tebar tebar ecco tebar numero di tebar da solo ha fatto un numero da solo per tebar 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 tutto solo ma tira fuori tutto solo vai dai 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 ragazzi dai ragazzi sforza ragazzi ok iversa la da iversa che la persa verza suso susano che è susano che c'è il mio amico dell'uomo zongo voleva fare un numero ma non va no perché allora trigilo trigilo ancora dubai ecco il portiere esce mette ed ecco levante vantaggio 1-0 david barral superazione triangolazione perfetta ed ecco i miei piccoli guardate che passaggio sul fronte alla alla chavi il chavi e il super goal all'aikai 1-0 1-0 adesso non facciamoci perdere dall'euforia attiviamo la modalità frenesia zongo 3-0 3-0 e il tercetto mostruoso era nostra ed è anche nostra e la regaliamo ok versa vai versa vai versa che prendi la traversa mitica prende la palla la dà avez puttana ricorre no punizione qui la batterà vidal ma oddio gol zongo zongo mi è piaciuta la punizione traversa mitica da riguardare il gol è bellissimo guardate la punizione dove l'aveva il portiere che non para zongo la insacca è un gol a volo 1-1 decide zongo eh sì sì lo lasciavi proprio volevo fare lo stesso schema di prima ma questa volta la schiena ma suso non è abbastanza veloce da intercettare questa palla mamma mia ragazza guardate lì che passato e c'è la rete david barral un più brutto di un altro un gol più brutto di un altro questi sono passati filtranti alla giocatore di fifa veterano guardate mamma mia che gol barral doppietta poteva essere tripletta ragazzi la vittoria della vita vai versa sotto a partire butta avanti forza levante quest'anno vincere la liga zongo l'autore del gol zongo di fisico non va mannaggia ha fatto uno stop di mezzo lag con aiuto di cosce e braccia braccia e braccia e braccia braccia e leoporino ed eccolo qui il mio cuorigioto victor polo wow ragazzi i levante gioca meglio del bar dammi il suo pallone no no quello deve passare ragazzi cazzo basta ora vidal mette un pallone in mezzo zongo oh mio dio che serpraters proprio che tiro dai 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 ragazzi wow ragazzi siamo per fare la media qui come cazzo si chiama prendete è molto forte vede lo scatto di zongo no diversa diversa tutto solo verso marone mio per poco sullo palo opposto la verza che la battezza per lui con questi passaggi filtranti marone ma che cazzo succede tutte traverse mio dio ragazzi berza 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 comunque non è giusto ragazzi due traverse due pali vai suso metti un pallone suso mio dio deviazione deviazione angolo no punizione perché ho preso con la mano ma che cazzo mette in mezzo mette in mezzo dovevo mettere in mezzo in mezzo volevo provare ma che schifo è questo rilancio mamma mia il primo dico è finito ragazzi altri 4-5 minuti in tempo tra l'allargata e l'altra noi non demordiamo vai al meglio ma come si fa come si fa dammi sta polla guarda lì non è possibile cosa stava facendo se quel palone passava ma questo gioco è puggato vai perché i giovedì sono sempre veloci io ho sostituito i miei occhi il mio pesi con uno che cazzo sto dicendo i miei occhi sono abituati a questo tipo di gioco spettacolare si quello che faccio io ho fatto il patto con un demone ho preso i suoi occhi in cambio dei miei di miei della i miei 50 anni sicuro ok vai almeria ce la puoi fare siamo tutti con te siamo tutti con te siamo tutti ecco la bravura di chi non fa gol a porta vuota mamma ma non vale grande portiere cosa volevi fare ma oh mio dio puttavano mamma mia mamma mia wow proprio da il giro di 3 minuti ho preso ma perché questi passaggi recuperiamo sta palla ma guarda lì che questo è bravura ragazzi che velocità ma questo è bravura che velocità esteban il portiere esteban cambiasso il trante è capriola vai vai almeria almeria siamo tutti con te siamo tutti con te di nuovo vai vai no no recupera sta palla ma che cazzo almeria 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 happy almeria marron dai almeria un italiano meglio era fallo allora facciamo un piccolo reso punto ma vaffanculo allora la mia super squadra ha preso tre pali quattro traverse e cinque piastoni sfumato quindi devo stare già 7 a 1 quindi ci avresti controllo sono in un ciclo assoluto sicuro vai almeria ce la puoi fare che cazzo sta succedendo ce la puoi fare ma vedi la quanto è veloce mamma mia che uomo Alex ma è pure tua wow ragazzi si è comprato la partita io ho fatto una ricarica a posto vai wow io le ho mettero ma perchè questi diri così forti se tu devi portare c'è cosa da aggiungere mannaggia quello che se vuoi il gioco guarda lì vabbè non prende le schede dove te li fanno eh mamma mia incredibile i vengenagics vassular fascics noo tiene barroo barroo tripletta tripletta di david barral ma lei non si balla e te facci una tripletà oh via l'ortere nel almeria fuma canoni prima di giocare a pallone ma è un fallo mamma mia ragazzi barral ma come si fa non schifo proprio guardate che gol guarda david barral ma come si fa il vertigo piazzatissimo piazzatissimo la sfida ci sta perché non sono molto bella hanno costruito molto io vi ho schiacciato ma rooo dopo vediamo le statistiche bastate statistiche quanti falli che ti sei riporto sì questo gol soprattutto sì quello mica era fallo era una sovrapposizione fisica muscolare i nostri difensori sono molto bravi sanno proteggere i miei sono forti il fisico non ce l'ho inserita no no ragazzi dai ragazzi non dovevo concedere niente ole barral non ce l'ho inserita me lo sognò stanotte me lo sognò stanotte mamma mia che dico che sarà no sti cazzi mi chiedi come dio come dio wow wow quello non è maniii ma che dici eh quella fa parte del corpo le mani fanno parte del corpo no quella quella era mani no non è mani tiro va sulla luna non c'è una parola ragazzi si aspetta il fischio finale ragazzi sono eccitatissimo è finita 4 a 1 incredibile valutazione zongo 8.1 allora adesso guardiamo un attimo le tiri allora 16 12 ti importano le 4 posso stoparlo un po' più di voi dai falli caccio d'angolo processioni di passaggio quindi siamo lì ma tiri 16 cazzo è che mi deve una cosa molto divertente non c'è non c'è comunque ragazzi allora finalmente abbiamo aspettato questa maledizione volevo farvi vedere il super tiro di david barral che deve fare 5 gol a 2 secondi dall'inizio super attraverso in grossa dei pali può tenere un altro più gollo allora da Raffaele Gerardo e Giuseppe è tutto e alla prossima partita